Siamo qui con Luca Comunian, Head of Marketing Global Markets di BNP Paribas, al quale vogliamo chiedere Allora sappiamo che BNP Paribas, Corporate Institutional Banking, ha vinto il miglior premio per il certificato e insomma quindi com'è stato questo 2019 e come sarà, come potrebbe essere il 2020 per il mondo dei certificati? Sì grazie, abbiamo vinto sia il certificato dell'anno sia anche il miglior servizio ai clienti e miglior marketing agli ICA, questo awards annuale appunto dedicato ai certificati di investimento, quindi siamo molto contenti di questo perché ovviamente ci ripaga del lavoro fatto. Il 2019 è stato un anno molto importante, Acepi, l'associazione italiana dedicata ai certificati ha pubblicato proprio recentemente i dati complessivi dell'intero anno dove si è registrato per il mercato primario un volume complessivo di 17 miliardi di euro questo è un numero molto importante perché rappresenta una crescita di più del 54% rispetto all'anno prima il 2018 dove ci eravamo fermati a 11 miliardi, dato ancora più importante perché il 2018 era un anno già importante già positivo, quindi è una crescita sulla crescita, quindi siamo molto contenti di questo come andrà il 2020 invece ci aspettiamo appunto un proseguimento di questo, ci sono vari fattori che ci fanno essere positivi siamo qui a consulenza oggi e vediamo appunto il riscontro da parte delle reti le reti sempre più stanno adottando questo strumento all'interno dei loro portafogli per varie ragioni direi in primis la flessibilità di questi strumenti, i mercati da ormai un pochino non sono più così semplici e quindi c'è bisogno anche di strumenti che siano flessibili, che permettano di fare delle strategie come ad esempio la protezione condizionata del capitale, piuttosto che avere payoff asimmetrici e quindi anche portare rendimenti in caso di ribassi dei mercati, come anche la possibilità di trovare dei sostituti dei rendimenti cedolari e quindi andare in strutture che possono avere dei flussi periodici di rendimento Perfetto, invece per quanto riguarda il rapporto tra certificati e sostenibilità? Sì, è un rapporto importante, il gruppo BNP Paribas ha un impegno dichiarato molto importante su temi ambientali, temi di sostenibilità, temi ISG e noi come emettenti di certificati siamo stati i precursori sul mercato italiano e siamo stati i primi a quotare dei certificati su Borsa Italiana a settembre del 2019 che sono iscritti su sottostanti ISG ovvero società virtuose dal punto di vista ISG. Come l'abbiamo fatto? collaborando con un provider di rating ISG terzo al gruppo, si chiama Vigeo Eris ed è un player globale in ambito di ISG grazie ai loro rating noi riusciamo a fare uno screening delle società e quindi a selezionare solo quelle che sono più virtuose mettiamo questo dato anche a disposizione all'interno del nostro sito investimenti.bnpparibas.it così che l'investitore nel momento della scelta dei propri investimenti possa considerare un'ulteriore variabile, la variabile ISG prima appunto di effettuare le proprie scelte di investimento e ne siamo molto fieri L'ultima domanda, sappiamo che B&P Paribas è molto attenta al tema della formazione Sì, la formazione è un tema importante per noi abbiamo una fitta agenda per questo 2020 stiamo lavorando molto in questo senso perché crediamo che la consapevolezza nel funzionamento del prodotto sia fondamentale proprio a febbraio partiremo, il 14 febbraio a Milano presso la nostra sede in piazzalina Bobardi avremo un evento dedicato ai consulenti e poi subito dopo, il 19 febbraio, lo faremo a Verona lo faremo insieme ad Intermonte, alla divisione TAI di Intermonte che è la divisione dedicata proprio ai consulenti finanziari e pertanto invitiamo tutti quelli che possono essere interessati ad iscriversi e a partecipare Grazie mille Grazie a voi